Ciao a tutti ragazzi e bentornati su NairClub, io sono Gaila e visto il successo della prima puntata sono qui per portarvi altri tre progetti che meritano di essere quantomeno seguiti e perché no, magari anche finanziati. Questa è la seconda puntata di Awesome Tech. Partiamo subito parlandovi di Wave, prodotto da Touchjet, una startup di San Francisco che promette qualcosa di miracoloso, ovvero convertire qualsiasi monitor da 20 fino agli 80 pollici in un monitor touchscreen. Può sembrare un semplice proiettore ma in realtà al suo interno ha un processore quad core ARM da 2 GHz, 2 GB di RAM e come sistema operativo viene preinstallato Android. A differenza di molti mini computer presenti sul mercato grazie alla tecnologia LED integrata, è in grado di mappare l'intero schermo e trasformarlo così nel tablet più grande al mondo. Possiamo quindi gestire tutte le nostre app con le classiche azioni touch, usare una penna dedicata oppure gestire il tutto da app mobile ed è presente anche la versione iOS. Potendo poi accedere a tutte le app presenti sul Play Store le possibilità sono pressoché infinite. Che voi utilizzate Wave per svago o per lavoro con soli 200 dollari portate a casa un mini PC Android e un tablet touch decisamente ingombrante ma assolutamente unico. Il secondo prodotto si chiama Brento, tanta tecnologia in una piccola sfera che assomiglia ad una semplice videocamera di sicurezza ma non si tratta solo di questo. Brento è una camera di sorveglianza a 360 gradi, un centro di controllo per la sicurezza della vostra casa. Vi permette poi di gestire la vostra televisione o altri prodotti multimediali e anche piccoli e grandi elettrodomestici. Brento è nato pensando innanzitutto alla sicurezza ed è in grado di rilevare movimenti, di vedere al buio, di riconoscere il suono provocato dalla rottura di un vetro e associato poi a dei sensori wireless in grado di gestire anche la chiusura dalle porte di casa. Se siete lontani da casa e volete sentire i vostri cari ancora più vicini a voi potete usare l'app dedicata per effettuare delle videochiamate a 360 gradi in HD. Insomma potete avere sempre tutto sotto controllo. L'app per dispositivi mobile è completamente personalizzabile così da poter creare un'esperienza unica e più vicina alle vostre esigenze. Brento è stato finanziato interamente su Indiegogo e attualmente è in fase di preordine al costo di 300 dollari. Negli ultimi anni abbiamo sempre più sentito parlare di cloud, cloud per salvare i nostri dati online oppure per giocare grazie allo streaming diretto. Tutti questi ottimi servizi come Google Drive o Dropbox sono incredibilmente utili ma sono limitati e hanno costi annuali che si devono considerare se si hanno esigenze di spazio oltre ai 15 giga. Per questo motivo è nato NextDrive Plug, un piccolo accessorio in grado di farvi creare il vostro cloud personale. Basta associarlo alla vostra wireless, collegare poi un vostro hard disk alla porta USB e potrete poi accedervi ovunque voi siate. In questo modo i limiti di spazio saranno dati solo dal vostro hardware. Nessun costo aggiuntivo mensile o annuale per gestire il tutto. NextDrive Plug non è solo questo. Infatti collegando una webcam ad esempio potremmo avere una piccola camera di sicurezza per controllare la nostra casa. Oppure collegandola ad un lettore CD potremmo ascoltare la musica da ogni dispositivo wireless o convertire automaticamente la traccia audio in formato MP3. Mi sono dimenticato di dirvi la cosa più interessante. NextDrive Plug costa solo 74 dollari, meno di un solo anno di account premium di Dropbox. Io un pensierino lo farei. Bene ragazzi per questa puntata di Awesome Tech è tutto. Se avete domande o curiosità riguardo questi prodotti lasciate un commento qui sotto o sui social e trovate tutti i link in descrizione. E parlando di link troverete anche i siti di tutti e tre i progetti. Come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con il prossimo video. A presto!